Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul canale, io sono Magrus, abbiamo incontrato Camilla Porca miseria ragazzi, che ve lo dico a fare? Naturalmente questo video vi dico a sub, al commento, ci siamo sempre qui su Castle Vina Lord of Shadow 2 Andiamo avanti, per cui eravamo rimasti qui, dobbiamo stare attenti perché il potere aumenta ogni volta che subisce danni quelle di Camilla Quindi quando sarai completamente passato diventerai il suo servitore Per cui vediamo di stare abbastanza attenti Appunto Vediamo un po' Allora vediamo innanzitutto di fare... Oh ma sono velocissimi questi Ok Vediamo un po' se la faccio... Ma non è così con noi quando sta così, no? Vediamo un po' No, così non riesco a beccato, però forse così sì No, ma anche così Questa secondo me è una cassa? Sì Salvataggio Che significa che sta per arrivare Ma riuscola Ma riuscola Ma riuscola o no solo un sogno io qui quattro ci sono tu qui come se un mille anni non passi la prima volta che ho vengato a te avvi e un senso nell'escritto dentro di te ho dovuto protegere l'ho da te, Gabriel i loro conoscono e mi hanno detto che ti dovrebbe essere e non ho avuto la loro esigenza e hanno detto che ti dice del vostro morte a me? ha? ha detto che ci succederà a noi? ha detto che... ha detto che l'esercito che l'esercito sirebbe per l'esercito per tutta la verità! tu ero scoperto marina mi ha detto questo è il giusto di di dottore per i diventati e i fulgati tu non sei una fuga gabriel non sono più gabriel sono il dragone dracul sono il pranzo di scoperta sono e sarò Be, forever, a thorn in his side, that, is my vengeance. I know who you are, and I know you want this to be over. But this suffering had to happen, and it will come to an end soon, my love. I have been sent back to help you. You are not here. You are not real. I am as real as the blood of that witch that is poisoning you as we speak. Ah, this castle and its inhabitants fear that you will leave this place forever. They will stop at nothing to keep you here. Your power keeps them alive. I know. This place has been my home for many centuries. Now, all I want to do is escape. I've seen our son here. This is no place for a boy. It's no place for you either, Gabriel. It never has been. It's time for you to go. It's time for you to return to us. To your family. Now you must drink my blood. It will help fight Carmela Spell. For you tomitake my blood. Yes, that's right. In a minute long, it's a demon Thank you. e tutti ci vogliono baciare baciare? cioè ok? speriamo che sia una cosa buona questo fatto che rimani con noi c'è sta cosa dominosa? ah Però perché siamo così Rannicchiati? Ma forse non mi devo far beccare Che è sta cosa qua a terra così? Se no mi devo beccare Se no mi devo beccare le spalle Allora utilizziamo questa Almeno così Riesco a fare più danni Dai Fatemi quindi qua Mannaccia la potevo beccare Abbiamo mutato È nostro Questo è nostro è Vediamo se riesco a beccare Qualc'altra cosa o no Devo continuare a dire che devo stare attento Non mi devo Fare beccare da lei Ma qua si può entrare Vediamo No Premi per Ah vedi ok Ora è tutto chiaro Devo stare Oh E che fai? Oh ho visto come corre All'improvviso No Quale è buttalo il sangue No Attenzione che ho visto che all'improvviso ingrana la quarta e corre come una pazza Facciamo stare un'altra Chi se ne frega Vai rapido 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 Ok Come cavolo è uscita all'improvviso Occhio No Ne manca ancora qualcuno forse Eh sì Questo è l'ultimo Porta aperta Non avevo capito all'inizio che dovevamo Dare sangue Sembra uno tipo Mi state dissanguando eh Andiamo noi Ah maestria alla frusta Sì Allora Questa sicuramente Soltanto questa 5.000 Aspetta un attimo 5.000 E qua possiamo andare alla grande Poi acquistare questa abilità A livello di maestria Che cos'era questo? Guarda qua Ah con Compriamo questa Dai Questa è un'abilità molto nuova Ha speso un sacco di soldi 5.000 Dai Quindi così Vediamo eh Non sembra male Allora non si può entrare qua No Mannaccia Forse faccio il giro Aspetta Forse faccio il giro Di qua Aspettate Magari se non si va A nessuna parte Io non so se magari Ah ok Vabbè dai E' sempre meglio di niente Qualcosa abbiamo beccato Se ci arrampichiamo Questo è il terzo Se non mi sbaglio Che becco No il secondo Ok Vabbè Da là non possiamo Premi per Ah già Scusate Ecco l'avevo notato Non c'è niente qua dentro Andiamo Non ho capito se là ci sono dei fulmini Perché ho visto Delle cose che si muovono Sulla parte destra Però forse Sono l'impressione Occhio Che c'è Vabbè Questo è come il ponte tibetano Anche Ma stiamo distruggendo Stiamo distruggendo E quindi adesso Che faccio Ma Ah E mo Allora Questa è avvenuta Troppo decisa Secondo me Mi figlio di questa Vai No Porca miseria Mannaggia Eppure ero convinto Perché era troppo decisa E ho pensato Che fosse quella 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 falsa Cioè quella giusta Anche se sembra Quella giusta Che ti fa male L'anca Perché cammini così E allora Vengo da te A questo punto No 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 Ehm Ehm Quella 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 Una bella scelta! Una bella celletta! Sì! Ok... Allora, vediamo innanzitutto... Tolta? Ogni volta che la tolgo se la rimette un'altra volta sta cavolo di... Finirà più o meno ogni tanto, no? No! Dai! Uh, aspetta, aspetta! Dove c'è questa classe? Dai! Vai! Ma miseria, ma miseria! Aspetta, aspetta, aspetta! Mi stanno rompendo le scatole! Ma raga, perché state con lei? Ma mettetevi con me! Vai! No, non l'ho becchiato, no! Ah, miss! Dove cavolo sta? Eh, miss! Ok! Va bene, però! Mi potreste anche togliere un pochetto, eh! Ogni tanto! Dai! Ho fatto danno? Si, ridi, ridi! Ok! Grazie! Allora, vediamo un po' se riesco a vederti un attimo! Ah, ma ti ho avuto un mazzo tremendo, te ne ho avuto! Dove vai? Un po'? Eh! Eh! Qua! Sei domani! E mo' che vecchia? Aspetta! dove cavo sta alta? non la vedo ciculle nere secondo me uuuuuhu premi testa di usa il potere e nebbia per entrare nella gabbia e bere il sangue ok vai miseria vai si riesco a scansarla sulla faccia è quasi andata credo vai vabbè vera che palle così non vale eh ti ricarichi sempre e no non c'è più forza proprio al punto giusto dispiace tanto dispiace tanto ok dove è finita va sotto a qualche pietra no che va ma torniamo indietro pur qua ho preso tutto di qua aspettate sicuramente hai abbastanza punti esperienza e penso di averne beccati veramente tanti punti esperienza questo 2003 mi capo tanto però vabbè sinceramente no no voglio avere più la frusta se c'è qualcosa di tanto potente che ancora non ho sbocchiato qua che c'è forse qua 800 vabbè questa la possiamo anche togliere così 1500 non c'è niente secondo me da 1500 da 1800 2000 3000 no non c'è niente compriamo questo potenziamento vai basta dai se no non compriamo più niente vado di qua allora perché da quello che ho capito si ritorna indietro un'altra volta oh è una tosta questa nel senso in tutti i sensi che poi da molti voi non sanno cosa significa a tempi me era un po' diverso termine tosta nel senso che significava che era carina oh queste ce le prendiamo ah ti sei nascosta lì sperando che sei sì sei tu c'è quel chiave che è successo m'è m'ho ah con la libia adesso possiamo passare oh grande di qua infatti ci sono un sacco di posti dove possiamo andare ah vedi se tengo premuto quindi ripasso fantastico queste me le prendo ok devo risalire da qualche parte credo sì posso fattere una di best ci permetterà di sbloccare un sacco di parti che prima non avevamo ancora sblocchiato fantastico scusate ho sbagliato ma non riesco più ad andare vabbè pensavo diventassimo dei topi sì vabbè abbiamo già ammazzato una volta ma che c'è una che è una mina sì infatti che ti ho pure visto quindi capirai cioè non è un manco un tranello questo me lo becco un attimo così? no no non credo che funzioni così saperlo dove andiamo? scendo ciao ragazzi tutto ok? come state? come c'è? mi sa che è meglio che ci spostiamo questo che vuole che si sta dinam ok se iniziamo a scansarci tutti è finita ok c'erano delle mine però forse così perfetto allora abbiamo capito come distruggere le mine sì pare di sì allora di qua? no di qua non capito se stiamo andando nella direzione giusta no 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 di qua dai sì questa è roba nostra sì ok macchine non ci sarà più niente quindi nebbia sì ho capito allora forse di qua dobbiamo andare sì per forza sì aspetta aspetta ho visto una cosa illuminata no no è solo il fuoco vai non ho visto il piano ripristiniamo la corrente ah ok fantastico c'è corrente se fatta la corrente mi incuriosisce sempre cioè vabbè e ripristiniamo la corrente cioè sembra una cosa un po' fuori dalle cose che facciamo c'è Dracula che ripristina la corrente mi sembra un po' strano quante quante cose ci stanno qua eh no non sono ascensori quelli eh no si ambientino allora inizierei aspetta che forse qua ok credo che sia a tempo a questo punto quindi mi sa che non ci conviene applicarci tanto ecco appunto vediamo un po' ce la faccio rapido devi essere molto rapido molto rapido vai no 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 allora non mi rompe le dai non ci rompe le palle per cortesia eh grazie ma si una volta facciamo vai vai usci perché la corrente non credo che funzioni per parecchio tempo quindi devo essere abbastanza rapido a uscire e non avere altre seccature credo no è di qua che dobbiamo andare mi pare sì ne ho già sbagliato figo se mi scendi ok dobbiamo sperare che sia durata abbastanza perché c'è tutto sto silenzio no ho sbagliato oh ho sbagliato strada no dove cavolo sta ho fatto dimmi di sì eh ok meno male speriamo che sia il piano giusto questo se no siamo fottuti allora qua ci potrebbe essere qualcosa spero che può essere che c'è qualcosa che non abbiamo recuperato tipo là per esempio vediamo di non cadere non sarebbe molto simpatico ricominciare tutto il percorso dai perfetto ah è il primo questo salta bene ok e salta bene di qua sì buonsla anche ora questi ancora mi sa che dobbiamo stare attenti sembra un forno per le pizze sbaglio no è un laboratorio tranquillo ok non lo vedo un po' ah si è tolta la maschera pensavo che non stesse bene perché l'ho visto si è messa le mani in testa e ho detto questa mi schiatta caspita c'è un affanno soffri di enfisemia polmonare bellino the antidote l'antidoto e c'ha ragione è vero dobbiamo beccare l'antidoto ragazzi ma lo vediamo sicuramente nel prossimo episodio ci vediamo se no per questo video bye ciao ciao